ero amo nel 1972 che si lavorava anche i giorni di natale e allora ho detto al capo se mi faccia fare un piccolo presepe affinché poteva nascere Gesù anche in mezzo a noi e l'amore l'amore che sia per Gesù e che come se io fosse non lo so c'è una un'attrazione non vedo l'ora mattina per vedere qui non mi ferma nessuno pioggia vento caldo freddo vengo sempre sto in pensione però c'ho anche una famiglia un pensiero che mi viene dovevo fare una un bambino che raccoglieva l'acqua l'ha visto lì che raccoglie l'acqua con un'ampora ecco un'ampora che coi ma coi mani che non voglio che offrano denaro qui al presepe allora portate una pietra e così a vostri figli e nipote pure nipote direte anche noi abbiamo partecipato dato che non entrano più là dentro non le ho messo di fuori nel salone e ognuno gli metto la provenienza da dove vengono